Voi dovreste semplicemente vergognarvi, vergognarvi perché siete una squadra ridicola Udinese Milan termina 3 a 1 ragazzi, al termine di una partita oscena, oscena, paragonabile a quelle che abbiamo fatto a gennaio Uno schifo, uno schifo e io non so più che cosa pensare con questa squadra veramente, non lo so più Ragazzi ho guardato questa partita sul cellulare a cena, mentre ero lì che mangiavo e bevevo e veramente mi veniva da bere più vino possibile Per dimenticarmi di quello che stavo guardando perché veramente ho visto uno spettacolo indecoroso, indecoroso Un Milan inguardabile che è partito sotto ritmo, ha avuto una mezza reazione, mezza dopo il gol dell'Udinese Per segnare ha avuto bisogno di un calcio di rigore, fortuito, per un tocco di mano e ha dovuto ritirare Perché il primo l'aveva sbagliato Ibra Quindi per segnare ha avuto bisogno di un rigore che è stato anche ritirato e che il primo Ibra l'aveva sbagliato Come al suo solito, tanto lui il rigore gli insegnava uno ogni 10 mila ma noi continuiamo a farli ritirare, va bene Ritiriamo il rigore, pareggiamo la partita Diceva boh dai, siamo partiti male, abbiamo giocato male, però sai con un episodio fortuito a fine primo tempo l'abbiamo ripresa in pareggio Adesso magari secondo tempo poi la possiamo provare anche a vincere E l'ultimo secondo del primo tempo, un minuto dopo che ha segnato il rigore, prende i gol del 2-1 Basta, e che cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere qualcosa alla partita? Non so, io, boh, che cosa devo dire di questa squadra? Si era trovata una certa solidità difensiva, stasera abbiamo preso 3 gol dall'Udinese Udinese che aveva vinto una delle ultime 10 partite su per giù Ragazzi, che cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire su questo Mila? Io non ho, e secondo tempo poi, cioè almeno nel primo tempo si è visto la bozza di una reazione Ci si è provate a reagire, un minimo, almeno di orgoglio Secondo tempo niente, zero, niente, niente Soltanto palloni sparati avanti a cazzo sperando che accadesse il miracolo, non so, un altro rigore, una spizzata Niente, non abbiamo creato niente nel secondo tempo E l'Udinese ha segnato il 3-1 giustamente, giustamente Hanno meritato di vincere il 3-1, perché loro ci hanno messo voglia, ci hanno messo intensità Arrivavano prima su tutti i secondi palloni, ci hanno messo aggressività Tutto quello che noi non abbiamo messo in questa partita Io non so veramente più cosa pensare, questo campionato sta scivolando via in una maniera terribile Da campioni d'Italia non si possono fare delle figure del genere, ragazzi Va bene, non rivinci lo scudetto perché il Napoli sta facendo un campionato sensazionale Va bene, va bene, lo accetto, lo accetto Il Napoli è superiore, merita di vincere, vincerà, è giusto Però tu non puoi fare queste figure, non mi puoi arrivare sesto in classifica Non puoi, non puoi, non puoi Pure con la Juve penalizzata di 15 punti non puoi Non puoi, basta, è imbarazzante Quello che stiamo vedendo è imbarazzante, non ci sono giustificazioni Sono già con la testa della Champions, bravi coglioni Perché pensate di vincere la Champions con queste prestazioni Oggi discutevo con un mio amico, ma pensa se arrivi in semifinale ci può essere il derby Pensa se arrivi in finale Ma quale finale dei Champions con questa squadra, questi giocatori? No, vedete di darvi una calmata, vedete di resettare il cervello perché si cominciate a pensare alla Champions, ragazzi Abbiamo fatto due partite col Tottenham Non ci giochi, non ci giochi, non ci devi giocare in Champions, non te la meriti perché fai schifo